Unisciti a noi per immortalare l'emozione del calcio giovanile su YouTube. Carissimi società, genitori, amici e parenti, siete pronti a far parte di qualcosa di straordinario? La Federazione Calcio Video vi apre le porte per entrare nel nostro esplosivo mondo di live streaming su YouTube, dove potrete catturare e condividere gli emozionanti momenti degli eventi calcistici dei nostri talentuosi calciatori. L'adesione a questo entusiasmante progetto è completamente gratuita e aperta a tutti. Non importa se sei un genitore orgoglioso, un tifoso appassionato o un semplice amico desideroso di sostenere la squadra, vogliamo che tu faccia parte di questa esperienza unica. Il requisito principale? Basta munirsi di un cavalletto per le riprese e uno smartphone. La nostra missione è rendere ogni partita, ogni goal e ogni momento speciale della tua squadra è accessibile a tutti, e tu puoi farne parte direttamente dal campo. La Federazione Calcio Video offre assistenza e servizi grafici per arricchire le tue dirette, garantendo che ogni momento venga catturato nel migliore dei modi. Ecco come unirsi. 1. Prepara il tuo equipaggiamento. Assicurati di avere un cavalletto per le riprese e uno smartphone pronto a catturare ogni attimo magico. 2. Iscriviti al canale YouTube. Trova il nostro canale YouTube Federazione Calcio Video e iscriviti per non perdere nemmeno un istante delle dirette. 3. Entra nel gruppo. Unisciti al nostro gruppo per essere sempre aggiornato sulle prossime trasmissioni e condividere l'entusiasmo con gli altri sostenitori. 4. Assistenza e grafica degli eventi. Contattaci al numero telefonico 393-4355-422 per ulteriori informazioni e per ottenere assistenza dedicata e servizi grafici per rendere le tue dirette e ancora più coinvolgenti. Siamo pronti a creare insieme un'esperienza indimenticabile per tutti i nostri calciatori e i loro sostenitori. Non perdete l'opportunità di essere parte di questa avventura unica nel suo genere. Unisciti a noi e trasforma ogni partita in un ricordo da conservare per sempre. Federazione Calcio Video, il calcio vive qui!